Quest'anno Artenova vuole giocare con le forme e i materiali in modo delicato ma allo stesso tempo sorprendente. Cerchiamo di miscelare i tessuti con differenti texture creando abbinamenti tono su tono con matericità contrapposte. Misceliamo i bouclé e le ciniglie, i velluti e le pelli. Il risultato che vogliamo dare è qualcosa di avvolgente, di sofisticato che invoglia a essere toccato, a rilassarsi. Il prodotto che esprime al meglio questo connubio tra forma e matericità è sicuramente Kintai. È un sistema di divani dalle linee iconiche e scultoree, però dall'impatto leggero ed elegante. I tessuti lo vestono come un abito su misura. I singoli elementi si affiancano creando dei giochi di vuote e pieni che stemperano ogni rigidità degli ambienti domestici. Un nuovo prodotto della nostra collezione di quest'anno è il divano Skyline. È un sistema di sedute che si declina lungo un sottile aereo pianale. Gli schienali, braccioli, complementi, librerie si fissano e si affiancano creando molteplici layout, configurazioni praticamente infinite che miscelano i vari elementi della composizione. L'idea è quello di un sistema di sedute progettuale che disegna l'ambiente col suo stile raffinato e accogliente. Un sistema che è dedicato al progettista che vuole costruire intorno al living un sistema di sedute che è capace di rapportarsi a ogni progetto.